Dona il tuo 5 per 1000 Lauser. La tua firma sarà un dono concreto per le nostre attività a sostegno degli anziani, alle persone sole e alle persone fragili. Tutti i giorni, anche nei momenti più difficili, siamo impegnati a fianco alle persone. Noi volontari dell'Auser tutti i giorni siamo impegnati ad aiutare le persone più fragili, a cominciare dagli anziani. Grazie al tuo aiuto possiamo migliorare e aumentare i servizi che ogni giorno offriamo agli anziani. Accompagnamento protetto per visite mediche, terapie, consegna spesa, consegna farmaci e anche momenti di svago. Qui per voi grazie al vostro 5 per 1000. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.